Belle notizie arrivano da una delle coppie più amate di uomini e donne, questa volta le immagini sono piuttosto chiare Hanno fatto sognare i fan e ora sono pronte ad aglietarli con una bellissima novità Ormai non manca tantissimo alle riprese di uomini e donne che inizieranno già a fine agosto, i fan sono in fermento sia per le coppie che sono nate che stanno evolvendo la loro storia d'amore, sia per quelle che invece si sono ricongiunte dopo momenti di crisi C'è chi spera di poter avere direttamente nel programma di Maria De Filippi a partire dal nuovo anno la notizia ufficiale di una famiglia che nasce e che avrebbe, secondo il gossip, deciso così di dare un risvolto totalmente differente e anche nuovo alla storia d'amore Si allarga la coppia più amata di uomini e donne.La questione è molto chiara, infatti l'ex corteggiatrice di uomini e donne ha pubblicato una storia veramente inequivocabile sui suoi canali social Il pancino in mostra è parole che appaiono visibilmente come un annuncio della gravidanza come hanno fatto notare anche i fan Roberta Di Padua ha infatti postato alcuni scatti della vacanza al mare, in particolare i fan ne hanno però notato uno molto chiaro La donna in riva, vicino alle onde, con il suo cucciolino proprio sulla pancia e la scritta Siamo tutti ma proprio tutti La storia con Alessandro Vicinanza prosegue ormai a gonfie vele, dopo la presunta crisi mai confermata dai diretti interessati alcuni mesi fa Ecco quindi che i volti di uomini e donne avrebbero forse scelto questa fase un po' criptica per annunciare una possibile gravidanza Per i fan sarebbe bellissimo ovviamente se i due scegliessero di allargare la famiglia La frase sembra fraintendibile ma non ci sono conferme ufficiali anche se Alessandro, come è noto, ha sempre detto di desiderare un figlio Anche in un'intervista a Verissimo l'extronista aveva dichiarato che voleva diventare padre Roberta è già mamma di un bambino ma ciò non esclude che voglia darne un altro alla luce Ciò che c'è di certo è che, dopo uomini e donne, i due hanno veramente trovato l'amore e consolidato il loro rapporto Probabilmente, laddove la notizia venisse confermata, potrebbero scegliere proprio il programma di Maria De Filippi per renderlo noto Dopotutto è lì che la loro storia ha avuto inizio dopo precedenti relazioni non andate a buon fine